Un misto di delusione, rabbia e voglia di ricominciare prima possibile, ripartendo da dove si era iniziato. La Virtus che si è imbarcata in direzione Istanbul ha una valigia stracolma di pensieri da tramutare in azioni positive a partire proprio dalla Coppa, che ancora una volta può essere la medicina giusta. Il WKO contro Cremone e Venezia ha lasciato il segno, non tanto per la sostanza tutt'altro che scandalosa, quanto per il modo da evitare. Il doppio ventello intascato con due big del campionato, anche Cremone infatti sta dimostrando di esserlo, hanno raccontato di una sega freddo ancora un gradino sotto, impartendo lezioni preziosissime se tenute a mente e digerite bene e se si avrà la capacità di non farsi deprimere ma anzi porterà a compattarsi di più. Il patto è stato quello, siglato sull'aereo che porta in Turchia, primo vero viaggio lontano da casa in questa Champions League, considerata l'Ubiana terra di confine o quasi. Meglio così anche in questo caso, staccare la spina, concentrarsi su una gara alla volta e andare a caccia del quinto risultato utile in altrettante gare europee, chiarendo la voglia di qualificazione ai play-off che poco non è per chi era assente da dieci anni dal continente. La testa sul campo del Besiktas, tutta o quasi. Una parte è rimasta infatti a Bologna assieme a Kelvin Martin che sta completando il giro di accertamenti per capire l'entità del problema muscolare al flessore sinistro. La Virtus non può fare a meno del suo Marin, dell'uomo in grado di accendere quell'intensità mancata nelle ultime gare. Rimbalzi e recuperi contropiede, alla Virtus stanno mancando quelle bollicine messe in conto e anche assaggiate all'inizio della stagione. Il calendario che arriva con Cantù e Torino in casa, Pesaro in trasferta e le big alle spalle dovrà essere un nuovo trampolino.